...dedicata al calcio, al derby di domenica, andiamo alla pallavolo perché domani sera un impegno molto importante per la calzedonia che affronterà Modena nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Queste le parole della vigilia di coach Gorbic. Esprimo il mio rammarico perché una partita così da dentro fuori si gioca a questo punto della stagione. Ritengo Modena favorita sia per il fattore campo ma anche perché ha una rosa al completo. Voglio però che i nostri ragazzi si giochino le proprie chance. Dopo Latina siamo tornati carichi ma consapevoli di aver fatto una gara dai due volti. Sono comunque felice della forza, del carattere e della voglia di vincere che abbiamo dimostrato nel ribaltare il risultato al tiebreak. L'intesa cresce e dobbiamo continuare.